C'ho l'H6 Eh Io ho capito dove stanno Cazzo no, c'erano le caccia torpediniere No, vabbè, io ormai ci ho rinunciato No, perché faccio 1000 FPS del Del solito Cazzo A sto punto, appunto, seccare Cazzo Basta Tutti qua Cazzo capisco Un cazzo, 25 FPS A questo sono le bombe da 1000 kg Sì 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 Aia Aia No Quale bombe? Mitraglieri Siete stati addestrati per questo Un cazzo 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 Un colpo Un colpo L'ho aperto Col Chi 40 Ah Non mi ricordo mai i numeri 45 Col chi 45 Un colpo di quel cannone lì Da vicino Di devasti Ne hai uno dietro Eh lo so gli sto sparando Non gli faccio mica Eh son Cosa fai venir verso di me? Eh non so dove stai Sì 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 bravo bravo Devastato Tierra le spalle Eh l'ho visto affatti No colpo critico e basta Va' al culo Guarda come muoio Nooo Ti schianti vero Nooo Ti posso spettarmi sulla nave Vai 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 grande grande Non lo stai peccando Non lo stai peccando Non lo stai peccando Non lo stai peccando No ma tu mezzo aereo eh Ahahah Ahahah Ma tu sei schiantato Ti ho pure scontrato pure Non ti ha fatto assolutamente niente Non ti ha fatto niente Ok Vuli sono proprio i 45 Eh ma io durò ancora poco Provo a buttarci la navocardia Dio Non lo stai peccando No Anche la becca Fantastica Oh Ah 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 si è sparito dal radar si decisamente non ho capito perché noi dai ti copro col K61B eh bravo che io sono un po' lento ecco questo rozer so giù victory is so close quindi con un colpo se lo prendo bene lo sfragno si si da vicino diciamo 5-600 metri massimo quelli quelli piccoli caccia se poi parliamo di si l'ho distrutto però mi sono distrutto anch'io perché c'era un altro stronzo accanto a me eh ho visto un po' non sapevo dove far andare mi sono girato verso tutta la parte si è sentito urlare ahhh ahhh prova ma cosa hai capito il po' qualche modo ahhh 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 si vero sa che va arrivo sta dietro al P40 sai Bu cosa sta dietro al P40 si ma c'è izba otto era costa sta arrivando un Buh đR non riesco a toccarlo portalo verso i miei va in mano a sinistra e poi ahhh Non provo ad andare ad aree Nooo C'è ratta l'aria Oddio Ma vedi Il Chi 61 A E' più maneggevole del B Si Perché c'ha meno armi addosso C'ha meno armi Comunque anche quando ti può scarichi i caricatori vai più veloce Ah si Cazzo dovrei usarla come strategia Ehi Oh questo non riesco a colpirlo ma che cazzo Più fighter Eh Si sta schiantando No c'ho sopra uno Caccia Ahia Pupo fighter è indistruttibile Anche la venti Cazzo sto a venti che adesso ci devasta tutto Non riesco neanche a Ok Ok Si no devono mettere a posto Sistemare ste cose perchè i più fighter Oh dai Ho sparato 40 col del bufaiter e col cannoncino Non gli ho fatto nulla Ah è ancora vivo No vabbè dai è impossibile Che mi dice Ma come parla in italiano alla radio? Perché di solito in che lingua ti parla? In giapponese In giapponese In giapponese? Ho pure uno dietro che no Ma è qui adesso ce ne sono Un tiro sono troppo Ascoltato Tu avevi Darato in giapponese Tu avevi Derato in giapponese Vabbè E' impossibile batterlo C'è è totale è complettato Che pulp Ah hi kapistroide vaffanculo 1 so navegargo ahahah 61 b si può fare un idropene è nettamente più maneggevole vabbè me lo ha battuto sta navegargo neanche io prima ma è baggata si ma cazzo no ma ucciso c'è è navegargo no no quello con il idropene lì fantastico è una manovra sbagliatissima si sono sopravvissuta sono sopravvissuta no ok ma è finita già ah vabbè tottonio 10 car si si ok a mercoledì ciao giovanna noi agosto oh oh ho guadagnato tipo 115.000 leone ciao 15.000 leone si si è andata bene ne 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 fammo subito un'altra o che vuoi vedo se però facciamo la balza pausa e poi facciamo la ma si dai smetto di frapsare sì sì